Alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso opera dal 2006 l'Associazione Iris, formata da volontari che danno sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Oggi la presentazione di una nuova convenzione che estende il campo di azione fornendo assistenza domiciliare. Accentiamo l'attenzione sull'Associazione Iris, costituita da volontari che opera fin dal 2006 all'interno della Fondazione Giovanni Paolo II a Campobasso, indirizzando il campo d'azione al sostegno delle malate e dei malati di malattie oncologiche e delle loro famiglie. Una nobile iniziativa di solidarietà che oggi, attraverso una nuova convenzione sottoscritta con la direzione della stessa Fondazione, si impegna anche a fornire assistenza domiciliare alle malate e malati oncologici residenti in Bolise, attraverso un sostegno multidisciplinare che assicura interventi di supporto al paziente e alla sua famiglia. È una veste di volontaria, perché anch'io ho conosciuto questa malattia e per fortuna sto risolvendo, ho quasi risolto del tutto, e ho fatto un ragionamento, ho visto in realtà, io sono stata fortunata perché ho avuto una famiglia che mi ha supportata in questo lungo percorso di malattia, però ho pensato a tante persone che invece magari non hanno, non la disponibilità da parte delle proprie famiglie, ma magari hanno famiglie che non hanno il tempo materiale per poterle conferire, offrire quell'assistenza di cui loro hanno bisogno. E quindi abbiamo pensato come associazione, attraverso i pochi fondi che noi riusciamo a raccimolare, attraverso le iscrizioni dei nostri volontari, di destinare, devolvere queste somme a un'assistenza per offrire a quei malati oncologici, un'assistenza domiciliare di supporto proprio ai loro familiari. Quindi laddove le famiglie hanno difficoltà, noi sopperiamo con questo servizio e dal momento che noi siamo un'associazione e non abbiamo noi personale infermieristico specializzato, abbiamo per questo sottoscritto questa convenzione con la Fondazione Giovanni Paolo II, che io ringrazio per la disponibilità, per fare in modo che infermieri specializzati possano, questi stessi che operano nella Fondazione, quindi recarsi anche presso le case di questi malati.